Un messaggio whatsapp all'una di notte con scritto di non aprire il negozio, così sono venuti a conoscenza del fallimento dell'azienda i dipendenti del punto vendita Mercatone 1 di San Michele. Mercatone 1 non corre più, c'era il campionissimo Marco Pantani, fresco della storica doppietta girotura, l'inaugurazione del punto vendita dell'azienda San Michele nel dicembre del 1998, davanti a quegli stessi cancelli dove nel pomeriggio di sabato dipendenti e CGL hanno tenuto un picchetto. Non c'era nessuno invece a comunicare il fallimento dell'azienda e la chiusura dei suoi 55 punti vendita ai lavoratori che lo hanno appreso venerdì sera, nel modo più crudele. E' arrivata la bomba, e di notte tramite i social siamo venuti a sapere che era stata depositata l'istanza di fallimento dell'azienda senza noi comunicare niente, l'abbiamo saputo per caso appunto tramite i social e poi nella notte dopo un battiace di messaggi e di confronti siamo venuti a conoscenza del fatto che non potevamo neanche presentarci al lavoro perché vista l'istanza di fallimento non avevamo neanche il diritto di poter venire e di varcare il solo cancello del punto vendita. Una doccia fredda per i 35 lavoratori del punto vendita di San Michele e per gli altri 1800 in tutta Italia, che dopo la cessione effettuata otto mesi fa dall'amministrazione straordinaria alla Sherman Holding, speravano di trovare quella stabilità mancata durante gli anni della crisi. Una stabilità per la quale avevano anche accettato di ridursi il monte ore lavorativo da 40 a 24, una scelta che ora potrebbe pesare su tutti loro qualora venissero messi in cassa integrazione o contratto di solidarietà. Un sacrificio che non ha aiutato l'azienda a rialzarsi e anzi la nuova holding ha solo aggravato il debito dell'azienda, 250 milioni verso i fornitori si stima, e il 30 maggio al Ministero dello Sviluppo avrebbe dovuto rendere conto del suo piano. E quel taglio accettato dai lavoratori ora in caso di cassa integrazione o peggio licenziamento li porterebbe a ricevere 5-600 euro, pochi per persone che hanno figli, mutui, affitti da pagare. Si tratta però di speculazioni per ora, un fallimento nel mezzo di un'amministrazione straordinaria è un fatto unico e che mette anche i sindacati in una situazione inesplorata. Sono degli scenari nuovi, perché a nostra conoscenza è la prima volta che un'azienda seguita dai commissari straordinari del Ministero che viene venduta a una holding, dopo 8 mesi viene dichiarato fallimento. Quindi si possono aprire scenari anche a noi non conosciuti. Oggi siamo qua in presidio per mettere a conoscenza anche l'opinione pubblica di questa situazione. Speriamo che risolviamo per queste 35 persone in primis la situazione. Proprio per questo la speranza dei dipendenti è quello che il punto vendita riapra, magari percorrendo anche la vecchia idea di un'accordata locale per salvarlo. La chiusura del Mercatone 1 ha colto di sorpresa anche i clienti. Parecchie le macchine che si sono fermate davanti al punto vendita e da cui sono uscite persone stupite e ignare, arrivate per ritirare mobili e stanze già pagate migliaia di euro, e che ora si chiedono cosa ne sarà dei loro acquisti già saldati. E sulla questione del Mercatone 1 è intervenuta anche la provincia. In una nota l'amministrazione dichiara che ora non resta che attivare le tutele previste per i lavoratori, ma anche di voler dare mandato a Trentino sviluppo di verifica delle ipotesi di insediamento alternative o di individuazione delle imprese già presenti che possano assorbire almeno parte della forza lavoro trentina.